Sono già trascorsi più di dieci giorni, ma tanti altri, pare, dovranno passarne. La chiusura totale del tratto Ragusa Comiso, della statale 115, crea disagi enormi alle migliaia di persone necessitate a raggiungere Comiso Vittoria, dal capoluogo Ibleu e viceversa. L'ANAS ha appaltato lavori di sistemazione dell'arteria, che sicuramente avrebbero potuto consentire soluzioni diverse rispetto alla chiusura totale per così lungo periodo. Non pare ci sia alcuna causa di forza maggiore o stativa, magari per motivi di sicurezza al transito, anche parziale, sull'arteria. Si tratta di normali lavori di sistemazione del manto stradale. Una circolazione alternata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori avrebbe potuto essere una soluzione, con eventuale chiusura totale solo nei giorni o nei periodi strettamente necessari. Invece l'ANAS ha scelto la situazione più conveniente per sé e per l'impresa, che esegue i lavori, e la più dannosa per la comunità. Non che le alternative non vi siano, ma la distanza è tripla. Invece dei 10 chilometri intercorrenti tra il punto di chiusura a Ragusa, all'altezza dello svincolo per la Ragusa Catania, in località Castiglione e il centro abitato di Comiso, gli automobilisti sono costretti a percorrerne 30 per giungere a destinazione, partendo dallo stesso bivio e percorrendo la Ragusa Catania con svolta in località Coffa. Un disagio che in un tempo così lungo, di diversi mesi, in proposito non ci sono notizie precise, diventa insostenibile. Il caso è stato oggetto anche di scontro politico tra gli attuali amministratori di Comiso e quelli precedenti. Il Comune ha fatto tutto quanto possibile, anche solo per rappresentare all'ANAS l'esigenza dei suoi cittadini, che frequentemente devono raggiungere il capoluogo. Grazie a tutti.